mistero risolto nessun omicidio né un cadavere nascosto in un cantiere quel messaggio scritto su una scheda elettorale per le forze dell'ordine ho ammazzato un uomo e lo sepolto in un cantiere dell'area nord date lui sepoltura cristiana vi prego era un'invenzione una falsa confessione che costerà una denuncia all'autore un 31enne di villa santa la scheda con quell'inquietante appunto è stata trovata dagli scrutinatori di un seggio di villa santa dopo le elezioni di settembre dello scorso anno subito sono scattate le indagini selezionato un gruppo di votanti che poteva corrispondere al profilo dell'autore la grafia lo indicava come un maschio tra i 30 e i 70 anni e il fatto che la scheda fosse stata estratta quasi subito faceva intuire che l'autore potesse essere uno degli ultimi 200 votanti un primo gruppo di persone è stato sottoposto a un test della grafia quello che tecnicamente si chiama saggio grafico i risultati sono stati comparati con la scritta sulla scheda allo stesso tempo gli esami dattiloscopici hanno evidenziato due frammenti di impronta utili alle indagini parallelamente sono stati avviati sopralluoghi nel cantiere abbandonato in via fiera mosca villa santa nella zona dell'ecomostro con l'intervento di un geologo forense l'analisi che ha richiesto due giorni ha escluso che in quell'area fosse stato sepolto un cadavere come se non bastasse un ragazzo residente in un palazzo vicino ha riferito ai carabinieri di aver trovato nel corsello del garage del suo condominio un foglietto con la scritta so che hai ucciso un uomo ti scopriranno ma anche questo fronte non ha dato riscontri decisiva alla fine si è dimostrata la pista delle impronte digitali lasciate sulla scheda elettorale sono stati convocati in questura per l'acquisizione delle impronte i votanti del seggio numero 5 di villa santa partendo anche questa volta dal gruppo selezionato dei profili ritenuti più compatibili tra questi quello di un villa santese di 31 anni che ancora prima che gli venissero prese le impronte digitali ha confessato stato lui a scrivere quella frase ma nessuno era stato ucciso da quando visto il servizio in televisione non riesco più a dormire la notte ha detto agli investigatori spiegando di aver compiuto il gesto in un momento di rabbia con l'intenzione di sollevare un polverone mediatico in quanto deluso dalla politica il giovane è ora indagato per il reato di autocalunnia punito con la reclusione da uno a tre anni con un morso ha staccato un pezzo d'orecchio al padrone di un cane che passeggiava in centro il motivo non voleva che accarezzasse l'animale scena horror nei giorni scorsi a monza l'aggressione è venuta in via italia vittima un cittadino inglese di origine russa residente in città sanguinante ha raccontato agli agenti della polizia di stato di essere stato avvicinato da due giovani italiani che dopo aver chiesto di accarezzare il suo cane hanno iniziato nel mezzo della folla a spintonarlo e a prenderlo a pugni uno di loro ha spiegato ai poliziotti dopo averlo fatto cadere a terra gli si è scagliato addosso e con un morso gli ha staccato la parte superiore dell'orecchio portato al pronto soccorso del san gerardo è stato diagnosticato il distacco di circa due centimetri e mezzo della parte superiore del padiglione auricolare con una prognosi iniziale di 30 giorni poco dopo anche grazie alle descrizioni dei testimoni che hanno assistito alla scena e alla visione delle telecamere di videosorveglianza gli agenti della squadra volanti hanno rintracciato e identificato l'aggressore un ventenne italiano il movente dopo una carezza fatta al cane il padrone dell'animale avrebbe offeso i due ragazzi facendo scattare la loro violenta reazione l'autore dell'aggressione è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso e indagato in stato di libertà dalla procura per il reato di lesioni aggravate il questore a tutela della sicurezza e incolumità pubblica ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale nei confronti del ventenne ubriaco al volante aveva travolto una moto su cui viaggiavano marito e moglie di monza la donna era morta poche ore dopo mentre l'automobilista aveva abbandonato l'auto scappando a piedi rintracciato condannato evaso dai domiciliari e ora dopo tre anni arrestato in spagna dove si era rifugiato in manetta è finito un 35 anni di origine ecuadoriane residente a mugio a fermarlo ai carabinieri di desio dopo lunghe e complicate indagini lo schianto a settembre 2020 lungo la superstrada 36 per la donna sbalzata sull'asfalto non c'era stato scampo l'equadoriano era scappato senza fermarsi a prestare soccorso rifugiandosi a casa della sorella dove era stato subito arrestato dai carabinieri a mugio per omicidio stradale fuga del conducente guida in stato di ebrezza perché guidava con un tasso alcolemico tre volte i limiti consentiti dalla legge ma in carcere non era rimasto a lungo a febbraio 2021 la concessione degli arresti domiciliari ma dopo pochi mesi il 35enne si era reso irreperibile grazie all'avvio di intercettazioni telefoniche e specifici accertamenti di natura bancaria gli uomini dell'arma sono riusciti a intercettare l'uomo in spagna dove aveva trovato rifugio a casa del fratello sul suo capo un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura della repubblica di monza il latitante è stato catturato dalla guardia civil spagnola attivata del servizio di cooperazione internazionale di polizia sbarcato all'aeroporto di milano linate è stato accompagnato nel penitenziario di opera per scontare la condanna definitiva di sette anni tre mesi e 26 giorni una brutale aggressione quella avvenuta nella serata del 2 maggio scorso nel cantiere dell'alta velocità di montebello vicentino tre uomini hanno fermato l'auto del direttore tecnico della ditta salcef di roma e lo hanno colpito violentemente procurando gli lesioni gravissime al termine di una minuziosa attività di indagine i carabinieri del nucleo investigativo di vicenza hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale su richiesta della procura gli arrestati sono un 45enne un 46enne un 52enne residenti nelle province di monza e brianza e di milano alle prime ore di mercoledì 20 settembre i carabinieri del nucleo investigativo supportati dai colleghi di milano brugherio e pioltello hanno dato esecuzione alle misure cautelari nonché ai decreti di perquisizione domiciliare secondo quanto ricostruito i tre hanno stazionato per ore all'esterno del cantiere dell'alta velocità a bordo di un SUV nero con cui erano giunti dalla lombardia non appena il loro obiettivo ha lasciato l'area del cantiere attraversando il cancello d'ingresso nella zona degli uffici con la propria auto i tre hanno utilizzato il loro mezzo per bloccargli la strada sono scesi dall'auto con il volto travisato e brandendo una mazza da baseball hanno aperto lo sportello lato guida dell'auto della vittima ne ha eseguito un brutale pestaggio solo l'intervento di colleghi e operai nel frattempo a corsi sul posto ha evitato il peggio i tre si sono poi allontanati la vittima 66enne di origini romane stata prontamente trasportata in ambulanza all'ospedale di arzignano e affidato alle cure dei sanitari ha riportato lesioni gravissime tra fratture chimosi e rescoriazioni sia sugli arti superiori che inferiori gli investigatori sono risaliti agli aggressori grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze di chi aveva assistito all'assalto armato di coltello ha tentato di rapinare due locali di monza nel giro di pochi giorni la polizia di stato ha arrestato un 55enne italiano le volanti sono intervenute lunedì poco dopo le 14 in via carlo cattaneo all'altezza del distributore esso segnalata la presenza di un uomo che poco prima aveva provato il colpo in un bar ristorante di via vittorio veneto giunti immediatamente sul posto gli agenti sono riusciti a bloccare l'individuo che corrispondeva alla descrizione fornita da un dipendente del locale il 55enne dopo aver pranzato al ristorante è andato alla cassa ma al posto di pagare ha minacciato la cassiera intimandole di consegnargli 150 euro altrimenti avrebbe compiuto una strage intanto metteva la mano in una busta della spesa col chiaro intento di impugnare un'arma i pendenti hanno allertato la questura il rapinatore ha deciso di desistere dal suo intento scappando a piedi prima di essere bloccato dagli agenti l'uomo un italiano residente a monza ma di fatto senza fissa dimora con alcuni precedenti è stato trovato dai poliziotti con in mano un coltello da 30 centimetri stato convinto dopo vari tentativi a deporre l'arma e a non commettere gesti violenti dai successivi accertamenti il 55enne è stato ritenuto responsabile anche di un altro analogo colpo avvenuto venerdì scorso a monza dopo aver appoggiato un coltello su un tavolino dei pressi della cassa aveva intimato al titolare di un bar di consegnargli l'incasso poi era fuggito con 50 euro l'uomo nei mesi scorsi in un altro punto ristoro di monza aveva estratto una pistola scacciacani senza tappo rosso e poi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché diceva era in procinto di fare una strage stato portato nel carcere di monza con l'accusa di tentata rapina a mano armata è stato denunciato anche per insolvenza fraudolenta porto di oggetti atti a offendere in luogo pubblico oltre che per la precedente rapina l'ex s lunga di v mercate non diventerà sede di un nuovo centro di accoglienza per profughi gestito dalla prefettura ad annunciarlo sono stati i propri rappresentanti della società milanese attraverso un comunicato stampa che non lascia spazio a dubbi riteniamo doveroso fornire una chiara precisazione al fine di tranquillizzare la cittadinanza possiamo rassicurare i cittadini e il comitato spontaneo ex s lunga di v mercate che l'immobile in via toti è di proprietà dell'azienda e non sarà mai adibito a centro di accoglienza s lunga è sempre stata impegnata nella collaborazione costruttiva con le autorità locali e continuerà a operare nel rispetto degli accordi e delle esigenze della comunità che serviamo sfuma così l'ipotesi per la prefettura di utilizzare lo stabilimento ormai chiuso ed ex hub vaccinale nel periodo covid come centro di primissima accoglienza per i profughi in attesa di essere indirizzati nei luoghi definitivi di accoglienza una possibilità prevista per gestire le fasi di maggiore emergenza ma criticata da più parti in prima linea dai residenti che avevano anche avviato una campagna di raccolta firme per spingere la prefettura a cambiare idea ma non erano mancate le perplessità anche da parte dell'amministrazione comunale di v mercate con il sindaco francesco cereda che aveva spiegato in conferenza stampa di non condividere la scelta ma di essere più favorevole ai modelli di accoglienza diffusa ma l'ultima parola spettava i proprietari dell'edificio con esse lunga che evidentemente deciso di interrompere la trattativa con la prefettura spegnendo definitivamente le polemiche è stata una commissione territorio accesa e con alcuni momenti di tensione quella andata in scena mercoledì sera a Lissone. Tema la tratta C di Pedemontana con i vertici dell'autostrada che hanno illustrato il piano e il progetto dei lavori a consiglieri comunali e al pubblico composto per gran parte da sostenitori del comitato per la difesa del territorio in prima fila per il contrasto all'opera. Una contrarietà espressa da subito con cartelli voltando poi alle spalle ai vertici di Pedemontana e ad argomenti che in un comunicato l'associazione definisce palesemente falsi usati solo per recuperare un consenso ormai scarso e sempre più traballante. Non siamo nati anche come comitato per mediare ma siamo nati per dire no a Pedemontana. Stasera loro sono venuti qui a dirci le cose che dovevano un po' anche imbonire, che dovevano cercare di tenere la gente tranquilla. Ci hanno detto tante cose su cui noi siamo molto perplessi. I mille giorni sono assolutamente incomprensibili. Un'autostrada di questa portata non potrà durare sicuramente così. I finanziamenti che loro dicono di avere al sicuro, noi abbiamo i nostri dubbi e purtroppo queste sono le maggiori nostre paure, cioè che possa iniziare un cantiere e rimanere non finito. Perché un cantiere non finito rischia di durare anni e i problemi alla viabilità all'ambiente e tutto ce li potremmo protrarre per secoli. Quindi diciamo che la serata di stasera è servita un po' alla gente per chiarirsi le idee, a fare domande a cui in parte c'è stato risposto, in parte no, ma non risolve i problemi. Tanti i temi affrontati nel dibattito in aula tra i vertici di Pedemontana e i consiglieri comunali, dalla durata dei cantieri con i lavori che dovrebbero cominciare a febbraio 2024 e concludersi per dicembre 2026 al piano smaltimento di rifiuti e bonifica dalla Greenway, per ora non inserita nel piano esecutivo, ma che Pedemontana garantisce di voler realizzare alla situazione dei fondi e dei pedaggi. I rappresentanti dell'autostrada promettono nuovi incontri con consiglieri e cittadini, ma le tensioni sono destinate a permanere. Noi stiamo lavorando per rendere la cantierizzazione quanto più, passatevi il termine, trasparente possibile. Per me trasparente vuol dire innanzitutto con tutte le informazioni che sono necessarie e la meno impattante dal punto di vista di peso sulla viabilità locale e ovviamente sulla vita della cittadina. Io ho dato la mia disponibilità a poter ritornare a Lissone per poter aggiornare periodicamente sull'andamento dei lavori, sull'andamento delle scelte più impattanti in tema di cantierizzazione. Fermo rimanendo che, ripeto quello che ho detto prima, cercheremo di essere quanto meno invasivi possibili. Rivoluzione ai vertici dell'arma Brianzola. Il colonnello Rosario Di Gangi, 45 anni, siciliano, è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Negli ultimi quattro anni ha guidato il reparto territoriale di Nocera Inferiore. Le priorità per il territorio sono, per quanto riguarda il comando provinciale dell'arma dei Carabinieri, intercettare le esigenze di sicurezza della comunità, esprimere un adeguato livello di collaborazione e di disponibilità nei confronti di tutte le istituzioni, principalmente quelle preposte alla tutela dell'ordine della sicurezza pubblica. Avremo cura di operare in sinergia con tutte le altre forze di polizia, in ossequio alle indicazioni che fornirà il prefetto e in stretta aderenza alle decisioni che saranno assunte, alle misure che saranno adottate, insieme al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ovviamente sono assidue le attività investigative che vengono svolte sul territorio dalle varie componenti del comando provinciale, sia per quanto concerne il lucro investigativo, sia per quanto concerne le compagnie e quindi nell'alveo di quello che è già stato progettuato e che si sta attuando conto al più presto di acquisire tutte le informazioni e le indicazioni utili per proseguire in maniera efficace le attività. Per fortuna, almeno da quello che mi è dato comprendere da questi primi giorni di permanenza sul territorio, non ci sono situazioni d'allarme. Ho potuto beneficiare di un breve ma molto profigo periodo di affiancamento con il collega colonnello Simoniello che mi ha preceduto nell'incarico e che colgo l'occasione per ringraziare per l'ausilio che mi ha dato e per l'ottimo livello operativo che ha saputo imprimere al comando provinciale che adesso ho l'onore di comandare. Per fortuna non ci sono al momento delle situazioni di allarme, ho avuto modo di confrontarmi anche con il signor procuratore della Repubblica, con i vertici della procura distrettuale, con la coordinatrice della direzione distrettuale antimafia. Abbiamo fatto un punto della situazione e abbiamo raggiunto delle intese per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività in corso. Capitano Corrado IV, 49enne originario di Novoli, Lecce, è invece il nuovo comandante della compagnia carabiniere di Seregno. Ha retto negli ultimi quattro anni il comando della compagnia di Modugno, Bari. Il capitano Giuseppe della Cueva, 39enne originario di Taranto, è il nuovo comandante della compagnia di Vimercate. Proviene da Milano dove guidava il nucleo radiomobile. Il sottotenente Francesco Nicoletti, 37enne originario della provincia di Caserta, è il nuovo comandante del NORM della compagnia di Desio. Proviene dal quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna. Il tenente Gian Giacomo Greco, infine, è da poco il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Monza. Ha 28 anni ed è originario di Roma. Proviene da Firenze, dove era comandante di plotone della compagnia di intervento operativo del sesto battaglione carabinieri Toscana. Rinforzi attesi e importanti, ma che non basteranno per il momento a chiudere tutti gli ambulatori temporanei. Arrivano in Brianza 29 nuovi medici di medicina generale. Nei giorni scorsi al TS ha svolto le procedure per il conferimento degli incarichi. Nel dettaglio, due nuovi dottori sono stati assegnati all'ambito di Biassono, Maccherio, Sovico e Vedano, due a Lissone, uno a Cesano Maderno, uno a Muggiò, quattro a Nova Milanese, uno a Varedo, sette a Monza, uno a Villa Santa, due a Giussano, uno a Seregno, due ad Arcore, uno a Lesmo, due nell'ambito di Vimercate Burago. I medici avranno 90 giorni di tempo per aprire gli ambulatori, con possibile richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni. Secondo le previsioni di ATS e Brianza, dunque, al 31 dicembre potranno chiudere gli ambulatori medici temporanei di Nova Milanese, Monza, Giussano, Seveso, Seregno, Arcore, Bernareggio e Curzio, Sulbiate, Roncobriantino, Cavenago, Bellusco, Mezzago, Ornago, Vimercate, Burago. Resteranno attivi gli ambulatori temporanei di Limbiate, quello di Cogliate, Lazzate, Misinto, Ceriano e quello di Agrate, Caponago. Resteranno attivi ma ridurranno gli assistiti ambulatori medici temporanei di Varedo e Concorezzo. Infine resterà aperto e aumenterà il numero dei pazienti, quello di Seveso, Barlassina. Le nuove assegnazioni, spiega il direttore sanitario di ATS e Brianza, Aldo Bellini, forniscono una boccata d'ossigeno in un contesto che negli ultimi anni vede una progressiva carenza di medici, di medicina generale diffusa a livello regionale e nazionale, che si ripercuote anche sul nostro territorio. Le molteplici cessazioni, soprattutto per pensionamento, hanno costretto a trovare soluzioni diversificate per garantire l'assistenza primaria e i cittadini del territorio.